C'è un'arte particolare che si chiama pirografia, forse non tutti sanno che cos'è. Ci troviamo a Panza dove c'è una mostra appunto di questi quadri fatti con questa tecnica ed è una mostra organizzata dall'Associazione Movio. Leonardo Iacono ci spiega di che cosa si tratta. Si tratta di una mostra che abbiamo organizzato come evento collaterale a quello principale che è quello del presepe che abbiamo realizzato in un ambiente che si trova proprio qui per dare modo ai telespettatori di capire siamo nei pressi del ristorante Da Luca. Praticamente questo ambiente dove c'è la mostra pirografica di Fermina Migliaccio si è proprio di fronte al ristorante Da Luca mentre di fianco c'è l'altro locale dove c'è il presepe che ovviamente consigliamo a tutti di vedere. Questa mostra è realizzata da un'artista locale proprio di Panza, Fermina Migliaccio tramite la tecnica della pirografia. Praticamente con questo pirografo che ovviamente dal greco scrivere con il fuoco è un aggeggio, uno strumento che permette di... Abbiamo anche qui quindi insomma la telecamera lo può anche inquadrare sta qua in questo posto. Sono qui su questo tavolino degli esempi e soprattutto continuando a girarci verso destra si trovano anche delle opere fatte con il pirografo che poi sono state colorate con l'ausilio di colori a tempera piuttosto che con altre tecniche per dipingere appunto quelli che sono i lavori creando poi un effetto molto particolare tra quelle che sono delle bruciature in effetti che vengono realizzate tramite questo pirografo, tramite questo strumento e il legno al posto della tela classica che si utilizzerebbe per dipingere un quadro qui diciamo che c'è l'incisione quindi più che la pennellata del rilievo c'è un'incisione verso il basso da parte dello strumento appunto del pirografo. Bene, ricordiamo gli orari di visita ai telespettatori. Gli orari di visita dei telespettatori sono gli stessi del presepe dalle 17 alle 20 e 30 dal 22 dicembre fino al 31 sarà possibile venire qui a vedere questa mostra di arte pirografica.